ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo tutorial questo è il sesto tutorial della serie quest'oggi vi mostrerò come fare un filtro polarizzato fatto in casa e quindi andare a risparmiare i soldi di un filtro polarizzato professionale che si compra nei negozi online che costa diciamo parecchio vi spiego cosa ho utilizzato per fare il mio filtro polarizzato fatto in casa allora una lente polarizzata di un vecchio paio di occhiali ne troverete sicuramente magari buttati via o rotti e basta è sufficiente avere una lente che chiaramente copra l'intera lente della gopro come in questo caso poi ho utilizzato dei semplici elastici elastici normali io nel mio caso ho usato gli elastici per capelli che vanno comunque molto bene e delle graffette eccole qua normalissime graffette quindi molto ma molto economico il nostro filtro polarizzato come ho proceduto a realizzarlo allora come vedete in questa lente che già aveva i buchi ho praticamente con la pinza ho applicato la graffetta tagliata l'ho piegata e ho ancorato l'elastico questa è la prima parte dell'elastico ancorato adesso vi mostro come fare la seconda parte quindi a terminare il nostro filtro ecco qui un pezzo di di graffetta che avevo precedentemente tagliato e piegato la vado applicare in questo modo all'elastico e la faccio passare attraverso il buco del della lente eccolo qua adesso vado ad agganciare l'altra parte dell'elastico eccolo qua comincio a fare un po di chiusura manualmente quindi la chiusura del ferro della graffetta ecco qua adesso vado ad aiutarmi con la pinza ecco faccio un giro un po più chiuso ecco qua con la parte della pinza che taglia taglio la parte di graffetta in eccesso ecco qua la prima parte è tranciata tranciamo anche la seconda parte ecco qua ora abbiamo il nostro elastico applicato alla lente ecco qua vi spiego come andrò ad applicarlo sulla gopro sia senza che con la custodia per cui adesso lo proviamo con la custodia eccolo qua questa sarà la nostra gopro con filtro polarizzato che dire non ci resta che provare la nostra gopro con il filtro polarizzato fatto in casa ecco qua un normalissimo video con la videocamera rivolta con le spalle al sole questa è la visione normale adesso andiamo ad applicare il filtro polarizzato ecco qua questa è la visione con il filtro polarizzato adesso invece siamo in una ripresa contro sole sempre in un filtro polarizzato sempre in visione normale adesso vado ad applicare il filtro polarizzato ecco qua eccoci qua dopo aver testato il nostro filtro polarizzato fatto in casa vi invito a mettere un mi piace o il like sul video se vi è piaciuto o vi è stato utile se volete passare dalle mie pagine su facebook twitter o youtube e vi ricordo anche di visitare il forum bigocamera.it che è sempre pieno di discussioni e aiuti per i nuovi utenti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti